Tonle Bintarn vive sull'altipiano e fa il contrabbandiere per bisogno. Ogni inverno, per far mangiare la sua famiglia, deve fare tre o quattro viaggi al mese oltre confine con tutto il carico. Di là porta scarpe con le brocche e capi di abbigliamento. Di qua porta zucchero in pani, acquavite e tabacco in rotoli. Con un viaggio, se gli va bene, riesce a guadagnare quel tanto che gli serve per comprarsi uno staio di orzo o di farina da polenta, una olla di formaggio oppure un paio di baccalà. Dopo il plebiscito del 1866 però qui sull'altopiano è tutto cambiato e ora i passaggi facili, i cosiddetti trodi o strodi, sono controllati dalle regge e guardie di finanza. Quando un giorno Tonle sta ritornando a casa con un carico in spalla, sente un altolà che lo sorprende e subito si mette a correre verso casa. È troppo vicino ormai e sa di potersela fare, però trova una seconda guardia che gli blocca la strada. Lo afferra per un braccio e sta quasi per immobilizzarlo. Ecco da lontano sente che i due guardie gli gridano di fermarsi perché l'hanno riconosciuto, perché sanno chi è. Sanno chi è. E Tonle adesso non ha altro da fare che darsi alla macchia e vivere nascosto al suo stesso mondo. Storia di Tonle, uscito nel 1978 per i tipi di Einaudi, è la prova della maturità artistica di Mario Rigoni Stern e racconta la montagna in un modo intenso e poetico come pochi altri libri sanno fare. La vicenda di Tonle, ambientata tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, fino alla Prima Guerra Mondiale, dove ci sarà l'epilogo, descrive una fase storica cruciale per questo angolo di mondo incastonato tra le montagne che è l'altipiano. Rigoni Stern ha la rara capacità di avvolgere con quella sua scrittura concreta ed efficace. Certo può apparire una storia lontana, passata nel tempo che non ha nulla a che vedere con l'oggi, eppure leggendola si comprende come non c'è cosa più viva e luminosa di un passato narrato, perché quel passato è nei nostri occhi, i quali sono fatti della sua stessa luce e della sua stessa ombra, e quindi niente è più presente. La storia di Tonle è proprio un libro scritto con gli occhi. Scopriamo ovunque gli occhi di Rigoni Stern. Lui vede da lontano, con lucidità e nitidezza, vede ciò che non ha mai visto, e noi scorgiamo tutto con lui, persino la forma delle venature di un larice o le piume della gola di un urogallo. Ma alla fine, quando abbiamo afferrato e colto tutto insieme a lui, ci sembra di appartenere a quei suoi luoghi, che diventano anche i nostri luoghi. La realtà quotidiana di Tonle regala intense suggestioni. Se deve descrivere dei favi di un nido d'api o un'isolata e vecchia maga in pietra, Mario Rigoni Stern lo fa con la massima gioia, con una partecipazione assoluta, con una precisione stupefacente, come se al mondo in quel momento ci fosse solo quel soggetto da descrivere. Così ogni particolare minimo, sebbene eseguito con una leggerezza da miniaturista, diventa smisurato e può occupare lo spazio, lo spazio di uno fresco.